Ti piace allenarti? O la tua paura di ferirti interferisce con la tua performance? È arrivato il momento di una sfida acrobatica impossibile! Vedi questa ruota? Rivelerà quali esercizi dovranno tentare di fare le nostre ragazze. Incontriamo le squadre? Innanzitutto abbiamo le professioniste. I muscoli di queste ragazze sono forti, ma la loro voglia di vincere è ancora più forte. E senza ulteriori indugi, incontra le debuttanti. Ehm, carino, una ruota, non è così? Chi pensi riuscirà a essere la campionessa finale di... Ehm... Ma non manca qualcuno? Eh, mi dai, stiamo iniziando! Ah, un crampo alle gambe! Restate sintonizzati per vedere se saranno le pro o le deb a diventare le campionesse. Facciamo girare la ruota per la nostra prima sfida. Sembra che le ragazze stiano tentando l'earth screw. Pensate di riuscirci, ragazze! Wow, al primo tentativo! Immagino sia per questo che vi chiamano professioniste, eh? Ma sì, anche noi possiamo provare. Facciamolo! Oh no, Lana, non mi sembra tanto fiduciosa. Vabbè, ma almeno le mani sono arrivate a terra, è qualcosa. Ehm, fai attenzione alle gambe! Oddio! Fanno troppo ridere, non è vero? Missione compiuta! Il prossimo esercizio sarà facile come l'ultimo? E il prossimo è l'air flip! Oh, è un gioco da ragazzi! Vediamo un po'... Capito! Ehi, vieni qui per un secondo! Ehi, Sofia, benvenuta nella squadra delle professioniste! E andiamo! Sì, è stato davvero perfetto! Ottimo lavoro, ragazze! Ah? Ciao, ragazze! Forse Sofia è un portafortuna! Proviamo, no? Aspetta, ma dove dobbiamo mettere le braccia? Bene, ora capovolgila! Aspetta, cosa facciamo una volta che è in aria? Non ci abbiamo pensato! Perché non mi sono messa un casco? Oh, meno male, Sofia è al sicuro! Forse non era bellissimo, ma l'hanno fatto funzionare! Ok, torniamo alla ruota! Forse ci sarà qualcosa di ancora più difficile questa volta! Tetris? Aspetta, ma non è un videogioco! Ehi, cosa stai facendo? Oh, non ancora! Immagino che la mia bella doccia calda dovrà aspettare! A quanto sembra questa versione di Tetris si farà sulla soglia di una porta! Pensi che ci sia abbastanza spazio per te, Sofia? Wow, devi avere un sacco di forza nelle gambe per fare questo! Bel lavoro! Oh, attenta! Sì, siamo un'ottima squadra! Oh, e non hai ancora finito, Sofia! Che cosa? Come avete fatto a entrare qui? Cosce, tenete duro! Ok, Sofia, fai piano! Oh, il sedere di Sofia che incontra la faccia di Emi! Ce l'hanno fatta! Ora scendi rapidamente prima che le cosce cedano! Domani staremo a pezzi, ma ne è valsa la pena! Ehi, ma ve ne andate! Ok, pronte per il prossimo esercizio? Piramide! Ok, uno, due, tre, vai! Prima due gambe in su! E sono decollate, signore e signori! Questa è una spettacolare piramide! Boom! Non preoccupatevi, questa volta ce la facciamo! Una volta che avremo sollevato le gambe da terra, staremo a posto! Eppure sembrava molto più facile quando lo facevano le professioniste! Oh, andiamo, gambe salite! Oh, ci siamo quasi! Un otto per l'impegno! Il prossimo giro rivelerà l'esercizio più importante di tutti! Beh, almeno per te lo è! E non dimenticare di iscriverti per vedere altri fantastici video come questo! Bene, e ora che siamo tornate alla ruota, ecco il vero esercizio! Il caterpillar! Questo esercizio richiede un bel po' di lavoro di squadra! E una buona quantità di forza nelle braccia e nel coro, ovviamente! Ehi, dove state andando, ragazze? Ce la faremo di sicuro! Fammi scivolare qui sotto! Oh, ma qui con le braccia non si capisce! Con costanza e lentezza si vince! Che cosa ottieni quando due bruchi attraversano un campo? Sì, sembra uno scherzo, ma lo sto chiedendo per davvero! Stai pensando quello che sto pensando io? Eh, già! Wow! Sono io! Vedo un enorme brucco umano! Ciò dimostra che, indipendentemente dalla squadra, lavorare insieme porta sempre al miglior risultato! Bene, scopriamo qual è la nostra ultima sfida acrobatica! Extra! Questo sarà incredibile! Questo esercizio richiederà più forza e anche potenza cerebrale! Un esercizio dove devi sederti! E puoi pure sdraiarti! Sì, io ci sto! Ehi, ma non hanno bisogno di quelle sedie? Chi ha bisogno di una sedia quando puoi sdraiarti sopra qualcuno? Wow, non sembra tanto comodo! Oh no, stanno perdendo colpi! Resistete! Oh, accidenti, che fatica! Ehi, ma qualcuno ce l'ha un asciugamano e della Gatorade? E finalmente è arrivato il momento di fare una pausa e dare un'occhiata a queste silaranti papere! Assicurati di mandare questo video a coloro che si allenano con te e forse potrete creare una vostra sfida di ginnastica! Non dimenticare di iscriverti a 1-2-3-go-challenge per altri fantastici video come questo! Ciao! 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 Grazie a tutti.